Il conflitto tra Russia e Ucraina per la Crimea è stato al centro della seduta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Nella comunità internazionale, dopo il plebiscito di domenica, è aumentata la tensione con il presidente statunitense Obama che annuncia nuove iniziative, ma esclude interventi armati, e la rappresentante di Mosca che all'opposto celebra le novità. Quello di ieri è stato un evento storico. Il ritorno della Crimea all'unione con la Russia è qualcosa che i due popoli aspettavano da 60 anni. Sono state usate le leggi internazionali e le procedure democratiche, senza pressioni esterne, ma passando per un referendum. E così il popolo della Crimea ha esercitato il proprio diritto all'autodeterminazione, che è scolpito nella Carta delle Nazioni Unite. Netta e diretta la replica dal versante occidentale, ecco il segretario generale della Nato, Rasmussen. L'annessione della Crimea, grazie ad un cosiddetto referendum, illegale e illegittimo. Svoltosi sotto minaccia armata, mina alle basi tutti gli sforzi per cercare una vera e stabile soluzione pacifica. Le basi militari ucraine in Crimea intanto cadono una dopo l'altra. Kiev chiede aiuto alla Nato e fa appello all'ONU chiedendo la smilitarizzazione della penisola.